Con il sistema telefonico P-Series di Yehastar hai a portata di mano la potenza delle comunicazioni unificate. Chiamate, incontri, messaggi. Coinvolgi colleghi e clienti, tutto in un unico luogo. In cloud o on-premise, gestisci il sistema nel modo che preferisci. A casa, in ufficio, in viaggio, effettua e ricevi chiamate ovunque ti trovi. Scopri chi è disponibile e verifica lo stato in tempo reale. Accedi ai contatti personali e aziendali. Trasferisci le chiamate direttamente tra i tuoi dispositivi per non perdere mai una parola. Chatta e condividi file in base alle tue esigenze. Hai bisogno di un incontro più coinvolgente? Avvia una videochiamata con un semplice clic. Oppure pianifica una videoconferenza per avere una riunione più immersiva. Con numerose funzioni per migliorare le chiamate, ogni chiamata arriva alla giusta destinazione. Addetti alle vendite, supporto tecnico e aziende di ogni dimensione, si affidano a Yehastar per la fornitura di servizi eccezionali. Personalizza la gestione delle chiamate e i messaggi interattivi. Invia chiamate in base alla disponibilità degli operatori e dei dipendenti. Registra le conversazioni rispettando i regolamenti. Visualizza le informazioni chiave in una wallboard dinamica. Ottieni informazioni preziose dai report delle chiamate. Integra più canali di messaggistica in un unico contenitore centralizzato. Offri un'esperienza unificata multicanale tramite chiamate, chat, sms, whatsapp e altro ancora. Trasforma le interazioni con i clienti in servizi vincenti. La gestione del sistema sarà indolore per amministratori e IT manager. Rimani informato facilmente con uno sguardo su tutte le attività del sistema telefono. Tieni un sistema di stand-by in funzione accanto a quello primario. Garantisci la ridondanza in più regioni. Non lasciarti mai abbattere dai tempi di inattività. Oltre all'affidabilità, Iastar protegge ogni elemento del sistema. Con misure di sicurezza di livello aziendale. Con un ecosistema aperto e integrato, dai trunk zip ai telefoni IP, alle cuffie e altro ancora, Iastar funzionerà in armonia con la tua infrastruttura esistente. Iastar rompe schemi rigidi e si adatta al tuo flusso di lavoro, integrandosi con Microsoft Teams, Outlook, CRM, Helpdesk, servizi di directory, PMS per hotel e altro ancora. Oppure puoi creare le tue integrazioni con le API. Il sistema telefonico P-Series di Iastar. Facile da adottare, utilizzare, gestire e integrare. La soluzione di comunicazione unificata, facile da usare. La comunicazione senza limiti è a portata di mano. ipadatta di mano. L'impacto.